UbiBanca presenta UbiPay, l'app che rende smart i tuoi pagamenti. Perché da oggi dare la tua parte all'amico che ha comprato il biglietto del concerto anche per te? È facile come inviare un messaggio. Enjoy the music! Con le carte UbiBanca, 15% in meno sui tuoi concerti. E salti la coda! Scopri come su ubiBanca.com